Un 36enne originario di Eboli è stato arrestato a Langhirano in provincia di Parma dopo aver minacciato e rapinato due prostitute. L'individuo, da una prima ricostruzione, si sarebbe appartato con una donna e l'avrebbe poi minacciata puntandole un coltello e una forchetta all'addome con lo scopo di rapinarla, facendosi consegnare successivamente 300 euro e due telefoni cellulari. Qualche giorno dopo il 35enne avrebbe perpetrato lo stesso reato con le stesse modalità ai danni di un'altra prostituta. Le testimonianze delle due donne hanno permesso alla squadra mobile di Parma di identificare l'uomo. Durante un pattugliamento hanno seguito l'auto del segnalato fino ad un condominio di Langhirano in provincia di Parma dove è stato ritrovato uno dei telefoni cellulari rubati. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Parma. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Parma.